Il teatro come metafora della vita è l'universale necessità umana di sanare i dualismi e venire a patti con la propria ombra. E questo è il tema portante del teatro spettacolo della ventesima edizione della Notte delle Paure a Leofara di Valle Castellana, che si svolgerà dal 6 al 10 agosto con la regia di Gianluca Bondi. Lo spettacolo è il risultato di un riadattamento di testi tratti da autori come Goethe, Pessoa, Pasolini e Flaiano. Saranno le paure di Faust, però a volte le abbiamo preso in modo anche leggero, anche comico. Abbiamo giocato con un popolo di un pianeta più evoluto che scende sulla Terra e porta un messaggio attraverso il teatro per comunicare con i terrestri. Il teatro come mezzo di emancipazione, di crescita, di comunicazione tra un popolo più evoluto, il pianeta verde appunto, una citazione del film, e i terrestri che stanno ancora nei conflitti, nelle difficoltà economiche, difficoltà relazionali. Noi invitiamo a stare nell'ombra, a mettere luce sull'ombra in qualche modo, quindi ci piace invitare gli spettatori a guardare l'ombra nello spettacolo, ma a guardarla anche dentro se stessi, perché in realtà non c'è da spaventarsi la nostra ombra, c'è da cogliere spunti per evolvere, per crescere, per migliorare noi stessi. Particolarmente ricco il programma della ventesima edizione della Notte delle Paure, che quest'anno al Laboratorio di Teatro Spettacolo ha affiancato due workshop veramente inediti, quello sulla danza e ritmi sufi condotto dal regista iraniano Peyman Tadayon, in programma fino al 9 agosto, ed un laboratorio condotto da Valerio Mastrodi su costruzione e utilizzo dei trampoli. Era un po' dovuto fare qualcosa di nuovo per quanto riguarda il ventennale, le novità non saranno solo queste, saranno anche delle piccole sorpresine durante lo spettacolo, anche l'utilizzo di qualche mezzo che non abbiamo mai usato e che quest'anno useremo, anche per il ventennale diciamo che forse qualche eccezione ce la farà fare. Un progetto esclusivamente culturale, vogliamo dare paura, quindi con i suoi vantaggi, i suoi limiti, il quale è il limite principale, è vista un po' la situazione economica che c'è in giro, quindi la carenza di aiuti, la carenza di fondi. Noi anche quest'anno ci proviamo e faccio un invito caloroso, tra l'altro a chi ci ascolta, di intervenire, di prenotare perché passeranno una serata sicuramente diversa da solito e ci aiuteranno a non far morire la notte delle paure, questo lo voglio dire perché la notte delle paure altrimenti senza il loro aiuto rischiamo di perderla.